Va bene 25 anni per davvero Del mondo di pick up Che sarà in copertina Nel prossimo episodio Di Topolino 60 panini Topolino Academy Comics Sa quando finisce ragazzi In questa settimana Potete io zio Papperoni Le giovani marmotte manuale Papperino e dei bestoff E Papperopoli E poi Prima le storie fumetti dai 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 Pic up a zona franca episodio 1 Ciuma del sole nero vagaboni nello spazio episodio 2 Newfton e picco il raggio del maestro E il mestiere musica maestro Gamba di legno Il mostro del terrore E due storie di zio Papperoni Centoneggi in un campo E Rockerlack non si vede una traccia Che peccato Lo troverete sul Topolino La prima uscita Il Topolino 3 quadri da 7 Con pick up a robot Più equidaggiamento Più strumenti e azioni E nella prossima uscita Il Topolino 3 quadri da 38 Dal 10 ottimo 2021 Pick up a più Uno più braccio Rotante e accessori Bello Papperint Bello E troveremo tanti altri personaggi Per domani Ok Poi abbiamo anche un altro corto di Alessio Coppola No ma stavolta non è di Alessio Coppola Ma di Roberto Gangor e Davide Cesarello War Disney Paperi su Marte la scoperta Questo Archimede mi fa schifo ragazzi Fa schifo Archimede mi piace molto come personaggio Che ha sconfitto Ma parla se sei un paperone qua Chiama lo Rubino con quel colore Ne sarà Staccolmo Perché siamo una pubblicità di frizzi pazzi Sì papera E qua c'è anche nona papera Lampone Travola Sì E poi c'è anche Rockerdac Vestito da Da italiano romantico romano Pianeto del colore del mio cappello Visto ci sono Meglio Marte come misterioso Rume Beh A me mi sembra che c'ha La capatoio Rockerdac Meglio Marte come risosorume Così potrò lavorare in pace Che caratterino marziale Marvel Studios Break Window DVD E finalmente è tornato al maracco numero Topolino col numero 3 Aaaaaaah Allora Quelle storie di Topolino Vabbè Più interessi Sono felice di aver trovato L'arbon 2021 delle avventure spaziali Dei formaggi in crema bel paese Che bello eh Non c'è la latonave come sticker Che li potete trovare Nel crema bel paese Va bene ragazzi Iscrivetevi al canale di Paolo Paoli New Grazie per la nostra collaborazione Topolino 3436 in collaborazione con le collezioni di Pipi New E crema bel paese Iscrivetevi al canale Mettete più mi piace Condividete commentate Seguite la playlist delle collezioni di Pipi New O i fumetti Topolino E alla fine del video La puntata precedente La playlist dei fumetti Topolino Sarà diviso in tre parti vero? Sii Esatto Ciao a tutti E buon Topolino a tutti Adesso vado a pappare il crema bel paese Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Non le lascia più una fetta ragazzi Credo che 60 panini non c'è Ciao Ciao!